Aspetta, aspetta, qui l'Adriano Cracovia, qui l'Adriano Cracovia, 161, Alfa Zulu 77, Alfa Zulu 77, Cracovia, Polonia. Zulu 77? Alfa Zeta 77, Adriano, Alfa Zeta 77, 161, 171, Alfa Zulu 77, 161, Alfa Zulu 77, ok? Ok, arrivederci, mille grazie. Ok, Joseph, a dove, dove my tuło prowincja? Dove tu, od prowincja, Joseph? La mia città, la mia città è Grenoble. Grenoble, Golfo, Romeo, E.U. L'Olamber, Oscar, Bravo, Lima e Q. Grenoble. Ah, Grenoble è in Francia, in Francia, qui? Oh, non capiccio, non capiccio. Grenoble è in Francia, è in Francia? Ok, capiccio, capiccio. I, I know, I know where is Grenoble. Mille grazie, merci beaucoup, merci beaucoup, from Cracovia, Polonia, qui là Adriano, Adriano, Cracovia, Polonia, ok? Mille grazie, merci beaucoup, Grenoble, merci beaucoup, Grenoble. Signal, nuove, radio 5, Signal, in Francia, is 9, is, oh, 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 probleme. Nuove, 5, Signal, nuove, radio 5, Grenoble, ok? Oh, ok, 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 la mia condizione di trafico è l'antena a questo momento, l'antena 5 ottava, 5 ottava d'onde? La F3, F3 della masca, della masca Tazera, della masca Tazera, è la mia condizione di Tazera, la radio, la radio è un Icon, Icon 7.3, 5200, 7300 per l'Icon, L'antena 5 ottété, 3 transformazioni di Pry expressed whatnot, la radio è un 저는 modello AM, qui on tones di R als nous grill water, or ok, 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 Mille, grazie, mio condizione prezydent Washington, President Washington, President Washington, 40 anni radio, 40 anni radio, antena 5 ottob� crez관 5 ottob pin 4 vitam black pirate prezydent black pirate, ma i antena 5.8 Radio is 40 anni President Washington Old School Vintage Retro Radio Base Station Radio President Washington Ok, merci beaucoup, mille grazie 73, qui la Adriano Cracovia Si, ok, ok Conosco, conosco la tua radio Ho già visto quel tuo radio Ho già visto quel modello Ok, si, si Radio intenso Ok, voilà Washington Ok, merci, merci Adriano, ti ringrazio Per avere questo Giuseppe in contatto Ti ringrazio e spero Compartire la volta ancora Ok 111 111 77 Adriano di Cracovia Colonia Ciao, ciao Bye, bye Merci beaucoup Viva la France Qui la Adriano Cracovia 161 Alfa Zulu 77 Mio ane YouTube YouTube Please visit to YouTube Please visit YouTube 161 Alfa Zulu 77 Mille grazie Merci beaucoup Grenoble Joseph Grenoble Ch reach out num jury I don't like I don't like I don't know Josh I don't like I don't like I don't like